Le chat dicono che non è vero che ha gestito in autonomia la nomina di Marra. Allora siamo qui per un evento importante come quello della giornata. In caso di rinvio al giudizio, cosa farà? Chiedetemelo quando succederà. E' vera la strada che sta accendendo, la strada del patteggiamento. Ricordatevi che dovete raccontare la verità della notizia. Ricordatevi che lo dico, lo fa parte dei vostri doveri. Ma lei perché ha mentito rispetto alla chat? Qual è la verità? Questo lo dovreste sapere, no? Visto che è stato proprio giusto.